Era agli arresti domiciliari ed è evaso per andare ad aiutare il fratello coinvolto in una rissa. È arrivato sul posto a trabie, è sceso dall'automobile in pantaloncini a torso nudo e con una pistola nella mano destra. Ha rincorso l'auto su cui si stavano allontanando i protagonisti e la lite e ha esploso alcuni colpi. I proiettili non hanno raggiunto alcun fuggitivo. Poi è risalito a bordo della smarte su cui era arrivato e se n'è andato. Alcune testimonianze e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di Termini Merese di risalire all'identità dell'uomo protagonista del raid. I militari l'hanno arrestato con le accuse di detenzione, porto illegale di arma clandestina ed evasione. L'episodio si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Il GIP ha deciso di disporre nuovamente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 35enne che era già ai domiciliari evaso ed è andato a sparare colpi di pistola in piazza.